Stiamo facendo molti investimenti in tecnologia, abbiamo in questi anni rimodernato tutte le nostre radiologie e oggi inauguriamo qui a San Donato di Piave questo nuovo tavolo tecnologico di ultimissima generazione che permetterà ai nostri radiologi e al nostro personale di poter operare in maniera sempre più efficace e con strumentazione sempre più moderna. Mentre la Sanità Veneta lavora giorno e notte per fronteggiare l'emergenza Covid, contemporaneamente si continua a lavorare anche sugli altri settori. Nell'ospedale di San Donato di Piave ad esempio è arrivato un nuovo macchinario che verrà utilizzato nel reparto di radiologia. È il nuovissimo telecomandato diretto, digitale diretto. Diretto vuol dire che le immagini che vengono acquisite passano direttamente in rete sono usufruibili in tempo praticamente reale da radiologo nel RISPACS che è il sistema informatico e di visualizzazione delle immagini. È una macchina che sosterrà un peso di circa 20.000 esami radiografici all'anno, prevalentemente rivolti a pazienti esterni che spaziano da tutti i segmenti scheletrici ai toraci standard. Il macchinario, un investimento di 277.000 euro, è particolarmente innovativo perché ha due notevoli caratteristiche che permetteranno al radiologo di avere risultati migliori. Radiografare uno spessore analogamente a quanto accade in TACS questo permette nel caso di dubbi diagnostici di fare un approfondimento focale che permette di chiarirlo. Un'altra caratteristica importante è il dual source, ossia la doppia energia che permette per esempio nel radiogramma standard del torace di cancellare dall'immagine tutto quello che può disturbare il radiologo, per esempio le coste, lo sterno, la corona vertebrale e quindi vedere il parenchima polmonare senza interferenze.